Il nostro prosciutto è una carne che viene proprio dalla nostra azienda perché abbiamo l'allevamento a ciclo chiuso. Portiamo le mezzene a casa, cominciamo a sezionare la carne per fare i nostri salumi. Il prosciutto gli viene fatto l'acetata prima di mettere sotto sale con aceto, peperoncino e pepe. Gli viene fatto un bel massaggio e poi viene messo sotto sale e si aspetta il suo periodo e poi viene stagionato. Il periodo è un giorno a chilo, poi viene messo in un'altra cella, nella cella del riposo, ci sta a tre mesi e poi dal riposo viene attaccato nella stagionatura e poi va secondo a un anno, due anni. Nel prosciutto adoperiamo sempre il metodo che adoperava mio padre e mio nonno. L'unico strumento è che prima lo facevano in cantina e ora in cella. Il nostro prosciutto va in tutta la Toscana e in tutte le province limitrofe.